Uomini e donne oggi, problemi tra Gemma e Marco, Giorgio Manetti al centro delle polemiche Nella puntata di oggi di Uomini e donne, Gemma e Marco hanno abbandonato lo studio per un chiarimento. . Intanto Sossio ed Ursula non convincono il pubblico, sono già d'accordo? Ecco tutto quello che è successo. Oggi Uomini e donne, Sossio e Ursula sono già d'accordo? Il mistero dei telefonini. Si prosegue con la seconda parte del trono over di Uomini e donne. . Nella precedente puntata, è scoppiata la bufera dopo l'accusa che Ursula e Sossio fossero già d'accordo. . Stando ad alcune segnalazioni, poi smentite da Ursula, i due avrebbero fatto delle serate insieme e formerebbero una coppia a tutti gli effetti. . Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno chiesto loro di fornire i cellulari, in modo da fugare qualsiasi dubbio. . Risposta negativa di entrambi, che non ha fatto altro che alimentare il dubbio. Ursula poi ha deciso di far vedere il suo telefonino alla redazione, mentre Sossio è inveito contro Gianni e Tina. Dicendo di non voler mettere nelle loro mani le sue conversazioni private. . Il pubblico tuona e i commenti negativi non mancano. . Trono over, Giorgio tra Marco e Gemma, il nuovo cavaliere abbandona il programma?. Sempre nella scorsa puntata, Giorgio Manetti è voluto intervenire nella relazione tra Marco e Gemma. . La sua frase mai dire mai ha fatto sperare la Galgani e indispettire Marco. . Giorgio ha poi precisato che la sua storia con la dama torinese è finita, e che la sua intenzione era solo quella di esternare il suo pensiero. . Marco, inviperito, ha preso le difese della sua nuova conoscenza e ha preferito chiarire con la diretta interessata dietro le quinte. . . I due poi sono rientrati in studio, visibilmente agitati. . Pare che Marco non abbia gradito gli atteggiamenti di Gemma, che non avrebbe ancora le idee chiare. . Il cavaliere non esclude di andarsene, in quanto non ha risposte chiare da parte della sua nuova fiamma. . Dal canto suola Galgani, dopo aver detto che Marco ha cambiato versione più volte, vorrebbe risolvere le cose. . . I due ballano abbracciati cullati da una romantica canzone. . Secondo parte del pubblico però, la bionda torinese avrebbe nel cuore solo Giorgio, che cercherebbe disperatamente di dimenticare con altri uomini. . Cosa succederà ora? Per restare aggiornati sulle prossime news di Uomini e Donne. . . Non dimenticatevi di selezionare il tasto azzurro o segui il canale Anticipazioni TV. .